Decreto ingiuntivo da 660.000 euro per l'ASP, l'azienda sanitaria provinciale di Agrigento, a minare le casse dell'azienda e il comune di Raffadani, che ha chiesto e ottenuto dal Tribunale di Agrigento, tramite il giudice Rossana Musumeci, l'emissione dell'atto di precetto quale quota sanitaria per il ricovero di disabili psichici nelle comunità alloggio. L'integrazione socio-sanitaria è pensata come la necessità di un coordinamento tra servizi sociali e sanitari pubblici o al massimo in convenzione con il pubblico e quindi può essere ricondotta al buon funzionamento dei servizi da un punto di vista tecnico e organizzativo. Le norme nazionali e regionali vigenti sull'integrazione sanitaria prevedono che per i ricoveri di disabili psichici e anziani non autosufficienti la retta da pagare sia ripartita tra i comuni che sono onerati dalla parte sociale e l'azienda sanitaria provinciale su cui grava la quota sanitaria. Il comune di Raffadale ha intimato all'azienda sanitaria di pagare quanto dovuto ma senza riscontro dunque l'ente rappresentato dal sindaco protempore Silvio Cuffaro ha conferito all'avvocato Maurizio Buongiorno con studio a Racalmuto un incarico per il recupero forzoso della somma dovuta. Il tribunale degrigento accogliendo la tesi dell'avvocato Buongiorno è emesso apposito decreto ingiuntivo. L'avvocato Buongiorno specializzato nella materia delle politiche sociali e dell'integrazione sanitaria già in passato ha ottenuto numerosi decretti ingiuntivi a carico dell'azienda sanitaria per il pagamento della quota sanitaria a favore dei comuni per il ricovero di disabili psichici nelle comunità alloggio. Intanto un'altra tegola finanziaria si sta per abbattere sull'azienda sanitaria provinciale. L'azienda Centro Emodialisi Ippocrate ha citato in giudizio l'ente per richiedere il pagamento della somma di 3.679.000 euro per la piena remunerazione dei trattamenti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale nella branca dell'emodialisi. L'azienda privata ha citato l'Asp in tribunale nell'udienza del 7 ottobre al fine di ottenere la condanna al pagamento della somma aspettante. Ma l'Asp sostiene ed è confortata in questo dall'esame della documentazione pervenuta e da quanto relazionato dall'unità operativa complessa competente alla verifica della correttezza e legittimità sulla pretesa creditoria azionata che è risultata la conformità dell'operato dell'Asp per cui le somme richieste non sono dovute. Ma in ogni caso sarà necessario procedere alla Costituzione in giudizio per sostenere le ragioni e ottenere il rigetto delle pretese creditorie anche in grado di appello. Per questo l'Asp con l'atto firmato dal dirigente generale Giorgio Giulio Santonocito ha affidato l'incarico professionale all'avvocato Antonino Noto del servizio legale aziendale che ha accettato la nomina. Ma non è finita qui perché anche lo studio medico di nefrologia e dialisi è citato in giudizio l'Asp richiedendo la somma di 2.204.000 euro dovuti per la piena remunerazione dei trattamenti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale nella branca delle emodialisi. Ed anche in questo caso dopo aver valutato la documentazione il direttore generale dell'Asp è giunto alla conclusione che le somme non sono dovute per cui per resistere alla pretesa risarcitoria anche in questo caso è stato nominato l'avvocato Antonino Noto.